benvenuti benvenuti cari amici siamo vedi questo nuovo video terra luna ma che cosa sta avvenendo su terra luna binance compra vende ricomprate la luna e per cui che cosa sta avvenendo naturalmente andremo a capirlo all'interno di questo video ma non solo andremo a parlare anche di bitcoin ed ethereum perché c'è stato un importantissimo skyrockets e anche del reparto altcoin e per cui iniziamo subito iniziamo subito con crypto bubbles perché oggi tutto in verde abbiamo visto un importantissima risposta parte di bitcoin che sale sopra ai 20 mila dollari ma top gainers andiamo subito a vedere perché troviamo rave coin o kb perché già nella giornata ieri aveva fatto un importante skyrockets oggi si va a ripetere e anche ape coin di cui avevo parlato chi se lo ricorda lo scriva sotto nei commenti in generale quindi il reparto altcoin molto molto bene ovviamente anche bitcoin abbiamo avuto un importantissima risposta se deve dare comunque sul settimanale bitcoin registra un più 2,9 per cento ed ethereum addirittura il più 7,4 per cento ma diciamo chi è incontrastato in questo momento ovviamente tra l'una sul settimanale col 93,9 per cento rave coin più 57 per cento e team classic più 18 per cento e ton più 28,2 per cento diciamo la top losers e invece xcn ora andiamo a vedere come sempre l'alco index in questo momento siamo 96 quindi secondo me lo dico e ribadisco vedendo quello che stanno facendo le alco in almeno nei confronti bitcoin è un qualcosa di assurdo ok e quindi non mi piace assolutamente la situazione per quanto riguarda il reparto al coin andiamo a dare tra l'una perché abbiamo importantissimi aggiornamenti in questo momento prezzo di 52 mila 530 market cap di 3 miliardi e 200 milioni volumi comunque molto alti in questo momento siamo a 3 virgola 3 miliardi con più 4.54 per cento sul giornaliero per cui comunque terra luna sta spingendo in maniera ingente e lo stiamo vedendo soprattutto come noi sappiamo su binance dove addirittura i volumi ieri hanno raggiunto 1,7 miliardi perché come vedremo poi binance ha dampato è ripompato terra luna e molti avevamo detto anche nei commenti che sostanzialmente binance è andata a mettere in staking oggi vi andrò sostanzialmente a smentire ovviamente prima di scrivere certi commenti vi invito a verificare quello che state scrivendo ora che cosa è successo ieri la binance ha fatto quest'annuncio nel quale per l'appunto andrà introdurre su depositi e per lievi sostanzialmente il bar dell'1.2 per cento per quanto riguarda appunto la block chain di terra luna questa normalmente ha destato in alcuni subito leggendo la notizia che binance andrà a barnare sempre l'1.2 per cento anche sugli acquisti le vendite assolutamente non è così solamente su depositi e per lievi poi c'è stato questo tweet da parte di vegas che si professa essere l'autore a proposta 3568 che naturalmente porta al bar dell'1.2 per cento e ha twittato nel seguente modo cioè dicendo messaggio da binance ok sostanzialmente arriverà il barn su tutti gli exchange questo ci va a dire vegas ora queste sono parole importanti ok e se noi andiamo a vedere quello che sta avvenendo al momento sull'exchange quali sono i principali exchange che detengono luna al primo posto troviamo binance col 36 per cento al secondo q coin con il 6.22 per cento e a seguire troviamo kraken ed altri checks ora qual è il mio ragionamento il mio ragionamento è il seguente ieri binance è andata a vendere è andata a vendere anche forte perché siamo passati da 2.4 trillion a 1.6 quindi hanno venduto circa 800 miliardi di lunghe per poi riacquistarli quindi hanno fatto il dump che abbiamo visto ieri poi ha ripompato hanno fatto ripompare la gente e hanno ridampato questo un po è quello che è stato fatto ora io in staking vedo solamente guardate qui sono dati aggiornati 531 miliardi allora se su binance assegna meno 800 miliardi com'è che in staking ci sono solo 531 miliardi vuol dire che non sono stati messi in staking ok quindi a chi mi ha detto sono stati messi in staking lo vado subito a smentire dopo di che altro punto fondamentale deve dare quella che la posizione di tra l'uno in questo momento siamo in posizione 26 con 3 miliardi di capitalizzazione quindi posizione 26 normale sul settimanale più 111 per cento possiamo andare attaccare le prime dieci posizioni secondo me la lunga sì perché troviamo comunque dogecoin a 8 miliardi quindi dal punto di vista matematico il tutto è più che fattibile però ho detto più volte come secondo me soprattutto sul daily siamo sostanzialmente troppo esposti ora vorrei fare un'analisi sui 5 minuti sui 15 e su più time frame ok così riusciamo a capire quello che sta avvenendo sui 5 minuti che osservo secondo me bellissimo per chi va a pesca oggi nel senso guardate qui che bel supporto abbiamo sui 49 barra 48 5 quindi chi tratta sui cinque minuti secondo me soltanto questo supporto naturalmente bisogna vedere le condizioni però sembra che supporto stia tenendo potrebbe farsi vari trade e comunque portarsi a casa almeno un 7 per cento del supporto e questo prima cosa che osservo secondo elemento lo si vede ancora meglio sul 15 minuti guardate qui anche il supporto sempre dei 48 e 2 e 55 sta tenendo quindi in concomitanza di un rsi sui proprio 29 30 sembra essere un'ottima entry ecco e come ho detto prima anche qui ci si può portare a casa secondo me almeno un 9 per cento che davvero un qualcosa di assurdo naturalmente sono nei corsi finanziari nei corsi trading ma io vi dico sempre quella che mi dia sempre quelli che sono i miei ragionamenti dopodiché sul daily cambia cambia perché guardate quando siamo esposti abbiamo un rsi 85 quindi qualcosa di assurdo e attenzione perché se non teniamo questo supporto che secondo me potremmo fare anche una cosa simile 49 iper venduto rimbalzino ok e dopo va giù questo è un problema quindi anche chi secondo me entra sul supporto in questo momento comunque un piccolo scalping può essere interessante ok ma di 2 3 per cento massimo massimo perché se dopo prendiamo ridampiamo e ovviamente non si guadagna niente ovviamente magari sempre con stop loss proprio sul supporto un po sotto ok quindi queste sono piccole strategie sul daily come già detto secondo me dobbiamo ancora scaricare tantissimo e non penso che la prossima volta che andremo a scaricare avremo sempre il supporto di ripper comprato ok quindi faremo ovviamente questo tipo anche perché all'interno di quest'area non ci possiamo rimanere tutta la vita quindi prima o poi faremo un qualcosa di simile bisogna capire quando ora andiamo a dare bitcoin bitcoin 20.700 dollari in questo momento ottimo guardate che qui sui cinque minuti che bella risposta che abbiamo avuto soprattutto da ieri dalle 13 25 fino alle 20 25 infatti si è visto comunque anche qui guardate qua che bella action in questo momento abbiamo fatto un più bel 2.45 per cento con 85 barre sui cinque minuti e successivamente c'è stato quest'altra impulso a partire 38 dove siamo arrivati fino ai 90 per cui c'è stato un iper comprato molto diciamo vistoso ok e successivamente ora che cosa vorrei vedere soprattutto sui cinque minuti nuovamente un iper venduto che con altra probabilità arriverà comunque bitcoin sta tenendo davvero bene soprattutto sui RSI e per poi prendere e ripartire questo è un problema di A ora andiamo a vederlo sul sui daily ok che si vede bene allora qui direi completa reazione bitcoin in questo momento RSI siamo a 49 e secondo me possiamo andare a attaccare tranquillamente ok 62 ora attaccare il 62 secondo me implica quella famosa resistenza che vi dicevo dei 21 8 probabilmente dopo potremmo riavare un retest intanto vediamo se questo succede secondo me qualità probabilità può venire cioè abbiamo più probabilità pro rispetto a quelle contro e dopo vediamo secondo me ci sarà un retest perché noi avremo la forza di passarlo retest che dove potrebbe arrivare anche in zona 20 quindi nuovamente un iper venduto e poi nuovamente potremmo caricare però intanto io aspetterei questa prima fase 1 chiamiamola fase 1 aspettiamo intanto questo ok e poi andiamo a valutare ora vorrei chiudere con ethereum sappiamo come al 15 dovrebbe avvicinarsi il merge sostanzialmente e ethereum sta facendo sostanzialmente nuovi massimi contro bitcoin in questo momento siamo a 0.082 e insomma anche qui siamo in ipercomprato contro bitcoin con un alto index a 96 quindi attenzione su ethereum perché secondo me non ci sono le condizioni perciò che ethereum in questo momento possa performare bitcoin siamo molto ma molto estesi su ethereum anche il prezzo comunque è di 1700 dollari secondo me in questo caso se bitcoin andrà attaccare i 21.8 possiamo tranquillamente trovare un ethereum sui 1820 dollari questo è un po' la media è per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di di subito il like iscriviti al canale e ci vediamo presto